Incredibile! Ho preso un formaggio francese con un tampone e ho strofinato dentro una piastra Petri per muffe e dopo una settimana è uscito questo! Benvenuti nella seconda puntata di Muffe in Incognito, il format dove con un tampone sterile e una piastra Petri faccio crescere muffa da oggetti, cibi e qualunque superficie che non ti aspetti. E dopo aver analizzato la muffa del gorgonzola, eccola qua, oggi rimango ancora nei formaggi ma lancio una sfida tra Italia e Francia. Crescerà della muffa dalla buccia di formaggi molli italiani o francesi? C'è solo un modo per scoprirlo, andiamo subito a tavola e partiamo con l'esperimento. Siamo pronti per partire con la nostra sfida Italia contro Francia. Nell'angolo destro trovate un formaggio a pasta molle italiano e a sinistra il formaggio Camembert direttamente dalla Francia. Sopra potete vedere le due piastre Petri pronte per essere utilizzate, i loro tamponi e addirittura delle etichette e delle bustine per il repertaggio. Quindi iniziamo subito con il nostro formaggio italiano e vado a recuperare il tampone sterile che serve per fare questa prova. Ovviamente non un cotonfiocco normale, ma qualcosa che almeno non esca contaminata dalla scatola. Non dobbiamo fare altro che strofinare il nostro tampone direttamente sopra queste macchie verdine, che ovviamente sono caratteristiche del formaggio. Noi vogliamo solo vedere che cosa cresce. E a questo punto prendiamo la nostra piastra Petri, che vi ricordo essere quello strumento che esiste ormai da più di un secolo, inventato dal dottor Petri, che permette a studiosi e ricercatori di far crescere microorganismi. Dentro questa piastra c'è una gelatina che si chiama terreno di coltura, specifico per far crescere funghi, lieviti, muffe, tutto quello che riguarda la grandissima famiglia dei funghi. Apro il coperchio e a questo punto prendo con il mio tamponcino. Non devo incidere, ovviamente, perché altrimenti creo un solco, ma delicatamente devo creare una sorta di zigzag, come mi ha insegnato un amico microbiologo. Vediamo molto semplicemente adesso il segno in controluce, poi vedremo se questo disegno si riproporrà durante i giorni della crescita. Ma ovviamente non finisce qui, per fare un buon lavoro bisogna mettere in busta la nostra piastra di Petri, lo faccio insieme a voi. Ecco qua e adesso compiliamo l'etichetta che ci ricorderà quando abbiamo fatto questo test e in quale formaggio. 12 maggio 2023 è il test tampone e scrivo Italia. Ovviamente di solito noi scriviamo il nome delle stanze, ma il nostro formaggio bolle italiano. A questo punto, test terminato, dovremmo semplicemente aspettare che succeda qualcosa, ma proseguiamo con il nostro formaggio francese. Stessa prova, andiamo a vedere se ci sono e come sono le eventuali muffe buone e alimentari sulla superficie della crosta. Così ho letto online e mi è stato suggerito anche dal mitico chat GPT di fare questo test. Ostrofinata, ovviamente non si vede nulla perché abbiamo raccolto milioni di microorganismi, forse anche miliardi, se c'è qualche microbiologo o qualcun esperto di formaggi ci racconti. Faccio lo stesso solco, quindi vado in maniera molto delicata, senza incidere, a fare anche, come dire, la zetta di zorro. A questo punto richiudiamo anche in questo caso la piastra nella busta e noi abbiamo finito perché soltanto il tempo ci dirà quale delle due piaste petri farà formare della muffa e di che tipo, perché del resto il nostro esperimento è soltanto di pura curiosità. Rescerà della muffa dalla buccia di uno dei due formaggi francesi e italiani? Lo scopriremo presto. I nostri test sono pronti e adesso non ci resta che aspettare. Fra tre giorni scatterò il primo giro di fotografie, al quinto giorno ancora e infine anche al settimo giorno, in modo tale che ci renderemo conto come cresce l'eventuale muffa all'interno della piastra Petri. La sfida è aperta, Italia contro Francia, chi vincerà lo scopriremo presto. Esperimento terminato! Ecco le nostre due muffe, bianca e blu, che sono cresciute. Hanno vinto tutte e due, Italia e Francia. E così possiamo dirli tutti insieme, ebbene sì, c'è muffa nella buccia nei formaggi molli. Per fortuna è una buccia buona, potete mangiare tranquillamente. Però questo ci ha insegnato che le muffe sono qualcosa di un pochino più complesso rispetto a quella macchia nera che togliamo magari spesso con lo straccio imbevuto di candeggina, poi si riforma, eccetera, eccetera. Vi ho mostrato come gli stessi strumenti di lavoro che utilizzo tutti i giorni a casa dei miei clienti possono diventare un oggetto di consapevolezza per renderci conto che la muffa è tra noi e noi siamo ospiti nel mondo delle muffe di tutti i microrganismi e se quindi non attuiamo le giuste strategie per contenerla, visto che non è possibile eliminarla alla radice, ci troveremo sempre a che fare con lei. Ci vediamo quindi nella prossima puntata di Muffe in Incognito e chissà che cosa vedremo crescere in Piastrapetri. Ciao da Giuseppe e basta muffa!